Ed eccoci giunti alla terza e ultima puntata del nostro esercizio sul libretto dei voti, quindi diciamo così sull'applicazione della collection. Ci rimane oggi di affrontare gli ultimi tre punti, punto 7, punto 8 e il punto 9 e così completeremo questo esercizio. Poi in seguito vi darò qualche indicazione su possibili sviluppi successivi al termine della lezione. Iniziamo in ordine chiaramente e quindi il prossimo punto che ci accingiamo a risolvere è il punto 7, creare un libretto migliorato, chi non vorrebbe averlo, in cui ciascun voto maggiore o uguale di 18 viene incrementato di un punto e ciascun voto maggiore o uguale di 24 viene invece incrementato di due punti pur che ovviamente non si superi il 30. Tenere separati i due libretti e stamparli entrambi. Tenere separati significa che devo creare un nuovo libretto diverso che è quello che mostro ai genitori e che ha i voti migliorati e poi invece ci sarà il libretto originario, quello effettivo con i voti reali. Allora in realtà questo già lo sappiamo fare, nel senso che già sul punto 2 dove avevamo detto stampa tutti i voti uguali a 28 già avevamo ragionato che forse il modo migliore sarebbe stato quello di avere un metodo che creasse un clone del libretto e in questo clone del libretto inserisse solamente i voti che servivano. E quindi il pattern di programmazione potrebbe essere lo stesso. Noi chiaramente non andiamo solamente a inserire una coppia di un sottinsieme di voti ma inseriremo dei voti nuovi che sono tratti dei voti esistenti creando un clone di un libretto esistente internamente alla classe libretto. Quindi in questo caso stiamo creando una classe, dunque possiamo metterla qua in fondo, che sono nella classe libretto in cui restituisco, per il punto 6, creo un libretto migliorato. Quindi lei mi restituisce un libretto come valore di ritorno, nuovo, e chiamo questa classe crea libretto migliorato. La chiamo col nome crea migliorato così mi ricordo che quello che sta succedendo è proprio creare un libretto nuovo, non andare a modificare quello esistente. E questa classe, questo metodo non ha bisogno di parametri perché il suo comportamento è già predefinito. Quindi andiamo a inserire il javadoc, ok, che dice che restituisce un nuovo libretto, migliorando i voti del libretto attuale. Questo nuovo libretto ovviamente a sua volta potrà avere tutti i metodi che aveva già questo libretto, ovviamente, e quindi potrà, se vogliamo, proprio esagerare, potrà essere migliorato a sua volta. Quindi in questo caso che cosa facciamo? Iteriamo, innanzitutto dobbiamo creare un nuovo libretto. Quindi libretto nuovo uguale new libretto. E quindi ricordiamoci che all'interno di questa classe noi avremo nuovo che fa riferimento al libretto nuovo e avremo this che fa riferimento invece al libretto attuale. Sono entrambi oggetti di tipo, sono entrambi oggetti di tipo libretto. Allora, cosa facciamo? Iteriamo sul libretto attuale e per ciascun elemento il libretto attuale lo inseriamo nel libretto nuovo. Quindi for per tutti i voti v del libretto attuale, dis.voti, scusate, due punti non uguale, aperta graffa, devo aggiungere al libretto nuovo il voto migliorato. Quindi alla fine farò qualche cosa del tipo nuovo.add di v. Vediamo se è davvero v. Allora, non potrà essere v, dovrà essere un altro voto che poi vado a migliorare. Quindi sarà, creerò un nuovo voto v2, chiamiamolo così, che inizialmente è uguale a v e dopodiché lo posso incrementare. Quindi vado a incrementare il voto di v. Quindi se v2.getvoto maggiore uguale a 24, allora dirò che v2.setvoto è uguale a v2.getvoto più 2. Devo aggiungere due punti e tutti i voti superiore a 24. Attenzione che però se il risultato che viene fuori getvoto fosse maggiore di 30, allora devo correggerlo e metterlo a 30. E poi questa è una. Se il voto era maggiore o uguale a 24, sommo due punti, se per caso ho sforato il 30, lo riporto a 30. Altrimenti se v2.getvoto è maggiore o uguale, quindi non era maggiore o uguale a 24, ma è maggiore o uguale a 18, aggiungo semplicemente un punto. v2.setvoto di v2.getvoto più 1. Quindi ho creato un nuovo voto, ho corretto la valutazione di questo voto e aggiungo non v ma v2 al nuovo libretto. Alla fine di questa iterazione potrò restituire il nuovo libretto che ho così creato e popolato. Allora qua in questo codice c'è un errore. Cerchiamo, magari qualcuno l'ha già visto, magari qualcuno l'ha già notato, però proviamo a scoprirlo insieme andando a cercitare questo metodo col test libretto. Quindi questa parte qui è la parte noiosa, antipatica, illeggibile, ma è la parte facile tutto sommato di correzione del voto, dell'attributo voto dell'oggetto v2 che è il nuovo voto che dovremmo inserire nel nuovo libretto. Se io però provo a testare questo, quindi diciamo così, punto 6, migliora il libretto. Quindi mi farò creare un libretto migliorato, chiamando lib, punto, migliora, creare un libretto migliorato. E a questo punto posso vedere che il libretto, allora stampiamo un messaggio che dica miglioramento del libretto, print line, miglioramento del libretto, e quindi farò vedere il prima e il dopo. System.out.println.delib, il prima, qui manca una t alla riga superiore, e invece alla riga successiva stamperò migliorato. Così ho il confronto tra i due libretti. Ok? Allora vediamo cosa succede se eseguo questo codice. Quindi dovrei vedere in teoria i voti che avevo già prima, quindi il 28, 24 e 31 e 30, e poi gli stessi voti migliorati. Eseguiamo questo codice e vediamo cosa succede nella console. Allora andiamo in fondo, e invece miglioramento del libretto. 30, 30, 26, 30, 30, 26. Aspetta, che cosa è successo? Il mio libretto iniziale era 30 di tecniche di programmazione, 28 di tecniche di 2 e 24 di economia. Il libretto migliorato è giustamente 30, perché a tecniche di programmazione avevo già 30 e quindi 30 rimane. Di analisi 2 avevo 28 e è diventato 30, di economia avevo 24 e è diventato 26. Quindi questa parte è giusta. Quello che è sbagliato è questa. Cioè cosa è successo? Che pur avendo creato un nuovo libretto, i voti del libretto vecchio sono cambiati. Anche se io ho creato un oggetto libretto nuovo. Qui ho fatto un nuovo libretto, quindi questi voti sono i voti del nuovo libretto. Perché sono cambiati i voti del vecchio libretto? Questo è il solito errore che si compie qui. Quando io sto creando un nuovo libretto, quindi sto creando di fatto una nuova array list, ma gli elementi che metto in questa nuova array list sto riusando quelli precedenti. Sto riusando quelli che esistevano prima. Quindi praticamente io avevo un oggetto voto che era il mio voto di... dove era la console? Il voto il 28 di analisi 2. Quello è un oggetto voto. Io quando qua inserisco questo V2 non sto in realtà inserendo un altro oggetto, ma sto inserendo nel nuovo libretto questo oggetto precedente. Perché? Perché l'operazione V2 uguale V non crea un nuovo oggetto voto V2 uguale al vecchio V precedente, ma crea semplicemente un collegamento in più, un alias, un secondo nome con cui chiamare l'oggetto precedente V, che a questo punto adesso si può chiamare V o si può chiamare V2, ma è sempre lui. E è sempre quell'oggetto V che stava dentro il primo libretto. Quindi quando io qua pensavo di modificare il voto di V2... Sì, è vero, sto modificando il voto di V2, ma V2 punta allo stesso oggetto fisico, cioè questo qui di primo, questo di V2 che era nel libretto vecchio. Fa riferimento sempre allo stesso oggetto. Quindi io ho creato un ArrayList nuovo, perché ho un libretto nuovo, ma in questo ArrayList nuovo ci metto un riferimento agli stessi oggetti che erano già riferimento nel primo ArrayList. E quindi ho due ArrayList diversi che puntano agli stessi oggetti. E questo fa sì che quando io modifico un oggetto, tra virgolette, appartenente a uno e due ArrayList, in realtà sembri che io stia modificando anche l'oggetto dell'altro ArrayList. La confusione deriva dal fatto che in realtà l'oggetto è uno solo ed è condiviso tra i due ArrayList. Allora, il fatto di avere oggetti che vivono contemporaneamente, appartengono contemporaneamente a più strutture dati, a più liste ad esempio, è molto comodo. Perché a questo punto quando io creo le liste, le sposto, eccetera, non devo spostare fisicamente gli oggetti con tutti i loro attributi, ma semplicemente faccio le copie dei riferimenti agli oggetti stessi. Quindi è sicuramente molto comodo e molto efficiente. Il problema è che io a questo punto devo essere molto attento e molto responsabile chiedendomi ogni volta, ma io voglio modificare quell'oggetto, voglio condividere quell'oggetto, ma ciò che sto facendo qua è condividere l'oggetto puntato da V all'interno anche del nuovo ArrayList. Allora, voglio condividere lo stesso oggetto perché mi va bene che siano sempre un oggetto solo e quindi le modifiche eventuali su uno e due si riflettano anche sull'altro, oppure voglio separarlo e fare una copia. In questo caso, poiché voglio modificare il secondo e non modificare il primo, vorrò sicuramente fare una copia e quindi non va bene questo. Come faccio a fare una copia di un oggetto? Quindi essere sicuro che un oggetto, quando creo il V2, venga creato un nuovo oggetto, non solo un nuovo oggetto, ma un nuovo oggetto di cui il valore sia identico al V di partenza. Allora, esistono due metodi a livello di programmazione per far sì che un oggetto possa essere facilmente, usiamo pure il termine in gergo, clonato, cioè fare un clone di un oggetto. Un clone di un oggetto è un nuovo oggetto che ovviamente ha gli stessi valori di quello precedente. Due metodi, uno forse è più semplice di tutto, avere il cosiddetto copy constructor, cioè costruttore copia. Cos'è un costruttore copia? È un metodo costruttore, quindi con la signature public voto, dell'oggetto voto. Ovviamente l'operazione di fare un clone dell'oggetto voto sarà un'operazione che deve fare voto, non deve fare libretto, cioè è l'oggetto stesso che sa come fare a clonare se stesso, è solo lui che sa quali sono le proprie particolarità interne e quindi sa come fare l'operazione di clonazione. Quindi ricordiamo sempre dare a ogni oggetto le sue responsabilità. La prima soluzione che vi dicevo, vi accennavo, è definire un cosiddetto copy constructor, cioè un costruttore che lavora per copia, cioè un costruttore di un oggetto voto che crea un oggetto partendo da un altro oggetto voto esistente. Quindi questo prende il nome in gergo di copy constructor di voto, voto con la B maiuscola, cioè crea un nuovo oggetto, un nuovo voto, voto con la B maiuscola, copiando il contenuto del voto del parametro B. E quindi B è il voto da copiare. Quindi in questo caso è molto semplice perché vedete il costruttore normale è un costruttore che richiede i tre campi e li mette nell'oggetto stesso. E qui semplicemente il costruttore copierà dentro this.corso v.corso, copierà dentro this.data v.data e copierà dentro this.voto v.voto. A questo punto abbiamo creato un nuovo oggetto, questo è un costruttore quindi lui crea nuovi oggetti e in questo nuovo oggetto abbiamo copiato una copia del nome del corso, una copia della data e una copia del voto. E a questo punto questo nuovo oggetto nasce come copia di un oggetto esistente. Due osservazioni di dettaglio su come abbiamo implementato questo copy constructor. Il primo è che qui ho usato v.corso anziché v.get percorso. Questo lo posso fare in generale quando io accedo, io sono nell'oggetto this, non sono nell'oggetto v. Questo metodo è dentro l'oggetto this. v è un altro oggetto. Quindi normalmente se io volessi accedere ai campi di un altro oggetto dovrei usare il suo getter. Solo che Java ci fa questa semplificazione, se tu vuoi accedere ai campi di un oggetto che in realtà è del tuo stesso tipo e della tua stessa classe, puoi bypassare, puoi accedere agli attributi di un altro oggetto purché sia della tua classe. Quindi in qualche modo il controllo sulla visibilità degli attributi viene fatto a livello di classe e non a livello di istanza. Questo è un comportamento particolare di Java che in questo caso ci può semplificare il lavoro. Ma altrimenti si potrebbe benissimo scrivere così e funzionerebbe ugualmente se non meglio, cioè nel senso che è più chiaro. La seconda osservazione è che il problema che avevamo qui, su v2 uguale v, in realtà ce l'abbiamo anche qua. Io sto creando un nuovo oggetto voto. Allora ricordiamoci qua, il primo abbiamo creato un nuovo oggetto libretto ma ci abbiamo messo dentro non dei nuovi elementi ma delle condivisioni su elementi esistenti. E che cosa sto facendo? Sto creando un nuovo voto e ci sto mettendo dentro non una nuova stringa ma sto copiando il riferimento alla stringa esistente. Non una nuova data ma sto copiando il riferimento alla data che già esisteva. Non un nuovo voto ma sto copiando il riferimento al voto che avevo. Perché questo non è un problema? Quindi il problema di copiare piuttosto che condividere ce l'ho anche a questo livello qua. Cioè ogni volta che scrivo un uguale tra due riferimenti e oggetti sto condividendo il riferimento. Questo è pericoloso o no? In questo caso non è pericoloso, va bene così, mi posso fermare così per due motivi diversi. Il primo motivo è che sia corso che data sono oggetti cosiddetti immutabili. Cioè una stringa in java è immutabile. Una volta che l'ho definita non c'è nessun modo per cambiarla. Quindi il fatto che io ne faccia una copia identica o usi lei stessa non mi cambia nulla perché io non c'è comunque nessun modo di modificarla quella stringa e quindi è indistinguibile del fatto che io usi la stessa stringa o ne costruisca un'altra da zero ma che abbia lo stesso identico contenuto. Per il campo data anche, noi non abbiamo ancora studiato, ma l'oggetto local date e tutti gli oggetti dell'ebrie a java.time sono tutti oggetti immutabili. Allora ogni qualvolta un oggetto è immutabile, il che vuol dire che non esiste nessun metodo per modificare i suoi attributi, allora il problema della copia non si pone. Il problema della copia, il problema che avevamo prima sul libretto era che io andavo a modificare quell'oggetto. Questo discorso non l'abbiamo fatto la prima volta che abbiamo creato un nuovo libretto per estrarre i voti uguali a 28, perché noi abbiamo estratto un voto ma non l'abbiamo modificato. Quindi prendere, copiare, ricopiare, riportare gli oggetti da altre parti non è un problema fino a quando a qualcuno non viene l'idea in mente di dire ma proviamo a modificare questo oggetto. Allora a questo punto viene modificato in tutti i punti in cui è presente. Ogni qualvolta un oggetto o una proprietà è di una classe immutabile, cioè non ha nessun metodo per modificare le sue proprietà interne, il problema della copia non esiste. Allora string è una classe immutabile, local date è una classe immutabile, voto è un valore primitivo, è un int e in quanto int è un tipo primitivo e viene sempre copiato il valore, quindi non è un oggetto in realtà in java un int non è un oggetto e quindi se ne copia il valore e non se ne copia il riferimento. Quindi in questo caso, ma avendo noi analizzato i tipi dei vari attributi dell'oggetto voto, abbiamo deciso che a questo punto non è un problema. Questo integer che vale 24 viene copiato in quest'altro int che vale inizialmente 24 ma se modifico quest'altro sto modificando l'intero che è memorizzato all'interno di questo oggetto. Cioè con i dati questo int è un oggetto primitivo, primitivo del linguaggio java e quindi non è un tipo di dato primitivo, scusate, non è un oggetto e quindi non esiste questo meccanismo del riferimento a un oggetto esterno. È un dettaglio, ma è un dettaglio su cui spesso ci andiamo a schiantare perché non capiamo cosa stiamo condividendo oppure no. Quindi se così non fosse, cioè se le stringhe non fossero immutabili, come potremmo risolvere il problema? Il problema lo potremmo risolvere usando magari il copy constructor della stringa. Oppure usando ad esempio new string, facendo una new esplicita e inizializzando e questo esattamente è un copy constructor, adesso che conosciamo il nome. Cioè quando facciamo new string e gli passiamo come parametro una stringa, diciamo guarda io ho già una stringa, creamene un'altra, creamene un'altra nuova che abbia lo stesso contenuto. L'abbiamo anche fatto prima, se non sbaglio. No, non l'abbiamo mai fatto, scusate, non in questo esercizio. Quando creiamo una nuova array list, passandoli come parametro a un array list esistente, stiamo usando lo stesso meccanismo. Cioè stiamo creando, usando un copy constructor, cioè un costruttore che crea un oggetto copiando il valore di un oggetto dello stesso tipo già esistente. Questo non serve nel caso le string sono immutabili, quindi questo new string è sempre inutile, non serve a niente. Allora, fatto questo noi possiamo modificare la classe libretto dicendo no, il voto 2 non è una condivisione del riferimento al V che già esistevo, ma è un nuovo voto che viene inizializzato con V. Quindi ovviamente i setter li farà la classe voto internamente al suo copy constructor anziché farla, ovviamente non ci viene neanche in mente di creare un nuovo V2 nuovo. Vi spiego cosa non mi verrebbe mai in mente, non mi verrebbe mai in mente di scrivere questo, V2 uguale new, voto, tra parentesi, V.getCorso, V.getData, V.getVoto. Cioè non mi verrebbe in mente di chiamare il costruttore normale passandogli uno a uno tutti gli argomenti del... lui adesso Java sarà abbia solamente perché si chiama V2 e dovrei chiamarlo in modo diverso. Non fosse anche perché ho sbagliato l'ordine degli argomenti. Devi scambiare argomenti data e voto, ok. Ok. Questo è un altro modo per risolvere il problema. Esplicitamente crea un nuovo voto passandogli i tre parametri di cui è composto il voto stesso. Copiandolo da V. Però questo abbiamo... ci siamo abituati a non voler vedere queste cose. Cioè quali sono i parametri, le proprietà della classe voto e come fare a ricopiarle è un compito della classe voto, non è un compito di chiusa questa classe. Perché di nuovo, il solito ragionamento, se un domani qualcuno aggiungesse un quarto attributo alla classe voto, io devo modificare questo metodo e se mi dimentico di modificarlo, creo problemi in tutto il programma. Quindi questo non mi viene in mente di farlo. In realtà l'operazione che sto facendo è la stessa, ma la faccio fare alla classe voto e non la faccio nella classe libretto, dove non è il suo posto. Ok. Con questo ragionamento possiamo riprovare a eseguire il nostro codice che a questo punto, se tutto va bene, mi dirà che il miglioramento del libretto passa da 30, 28, 24 a 30, 30, 30, 26. Quindi finalmente è riuscito a mantenere il libretto vecchio lib diverso, separato rispetto al libretto migliorato. Questo è un modo di implementarlo. Quindi il problema era, devo creare una copia dell'oggetto voto anziché condividere il riferimento, una soluzione stata, implemento un copy constructor. Un altro metodo equivalente a questo, di ottenere lo stesso risultato, è quello di implementare un metodo clone, che è un metodo che già faccia una copia dell'oggetto. Per tradizione questo metodo si chiama clone. Public voto clone. Un metodo che clona l'oggetto. O poi questo metodo che cosa farà mai? Farà esattamente le stesse cose di prima, ovviamente. Creerà un voto v, pardon, come new voto, a cui passerà come costruttore, abbiamo detto corso voto local date. Dis.corso, dis.voto, dis.local date. Dis.data. E return v. Quindi questo metodo clone è un metodo che si occupa di creare, crea una copia, tre volete clone, dell'oggetto esistente, dell'oggetto presente, dis, come nuovo oggetto. Non condivide, ma crea un nuovo oggetto che sia esattamente un clone di quello esistente. Ovviamente le operazioni che fa sono sempre le stesse. Qui in realtà avrei anche potuto chiamare il copy constructor, avrei potuto scrivere new voto. Non l'ho fatto perché magari nell'oggetto o abbiamo il copy constructor o abbiamo il metodo clone, non li abbiamo entrambi. È una scelta. Però se ci fossero entrambi il metodo clone non è altro che return new voto del copy constructor. È la stessa cosa. Le operazioni da fare sono sempre le stesse. copiare uno a uno il valore della proprietà dell'oggetto. E quindi qua avremmo potuto anche scrivere equivalentamente vuoto v2 uguale, scusate, uguale v.clone. Troverete che in molti oggetti di libreria hanno un metodo clone, che fa esattamente questo lavoro. Quindi se trovate in libreria degli oggetti che hanno un costruttore che accetta come parametro un oggetto dello stesso tipo, pensate, ah questo è un copy constructor. Se avete un oggetto, un metodo tipo clone, molto probabilmente fa esattamente questo lavoro. Quindi vediamo che se noi implementiamolo col metodo clone anziché col metodo del costruttore copia, ovviamente il risultato non cambia. Sono semplicemente due pattern di programmazione, copy constructor e clone method e metodo clone che possiamo scegliere di implementare e sono anche espliciti nel senso che chi legge il codice si rende conto di quello che stiamo facendo. Anziché chiamarlo in media di fantasia lo chiamiamo clone, così sappiamo esattamente di cosa stiamo parlando. Oppure un costruttore che prende un parametro uguale a se stesso, uguale dello stesso tipo, sappiamo già che cosa fa. Questo è già più difficile da leggere. Cosa sta facendo? Ma sta modificando qualcosa? Lo sta prendendo? Eccetera. Quindi questo non ci piace, non ci piace, lo scriviamo, perché magari chi legge il codice dice, eh ma a lui piacerebbe questo, no? Non ci piace, ma non perché non piace a me, perché il mio senso estetico è del tutto irrilevante, ma perché crea meno leggibilità nel codice e quindi alla fine più difficoltà di gestione, di evoluzione del codice stesso. Ok, quindi quella che sembrava una cosa facile ci ha permesso di scoprire, diciamo così, questi micro pattern di programmazione. E abbiamo risolto anche il punto 6, 7, perdon. Punto 8. Stampare il libretto, questo punto, quello originario, in ordine alfabetico di esame e in ordine numerico decrescente di voto. Allora, quello che non ci dice questo punto 8 è che cosa succede al libretto stesso. Cioè nel libretto io ho inserito i voti in un certo ordine. Ok? Finora li sto stampando e ciò che stampo, visto che è un array list, mi riporta gli elementi nello stesso identico ordine in cui li avevo inseriti. Va bene. Se io eseguo ciò che mi chiede il punto 8, cioè stampa il libretto in ordine alfabetico. Lo stampo in ordine alfabetico, ma poi il libretto rimane nell'ordine di inserimento e poi quando lo stamperò in ordine di voto, lo stampa in ordine di voto, ma il libretto rimane in ordine di inserimento. Oppure sto dicendo riordinami, riordinami il libretto in ordine di voto oppure in ordine di alfabetico di esame, di corso. E poi dopo che l'hai stampato e ordinato, dentro la classe libretto, gli elementi rimangono ordinati. Questa piccola differenza ovviamente sta nel decidere se viene messo in ordine, riordinato il libretto di partenza oppure una sua copia. Quindi di nuovo stiamo ragionando su lo stesso oggetto o un oggetto diverso. Allora, per generalità noi possiamo pensare di introdurre tre metodi nel libretto, uno che faccia la copia, uno che ordini per corso e l'altro che ordini per voto. Così se io voglio ordinare il libretto di partenza chiamerò il metodo ordina per corso sul libretto lib e quindi mi ordina il libretto di partenza. Se invece non voglio io mi faccio fare una copia e ordino una copia e così il libretto di partenza rimane invariato. Quindi ho queste possibilità che sarà il chiamante a poter decidere quale utilizzare. Quindi mi sembra a costo basso un'operazione abbastanza semplice. Allora, vuol dire che dentro il nostro libretto noi aggiungiamo tre metodi. Uno di copia, a questo punto abbiamo parlato di copie, di cloni, eccetera. Quindi possiamo inserire un copy constructor alla classe libretto. La classe libretto aveva già un costruttore? Sì. ne aveva uno. Estrae i voti uguali. Non ne aveva dovunque. Aveva il costruttore di default? Non lo vedo, mi pare di no. Andiamo un po' a vedere. Forse non ce l'aveva. Pardon, model, libretto. Quindi avevo il metodo add, il metodo cerca nome corso, crea libretto, migliorato, però un costruttore non ce l'aveva. Perché anche questo, estrae il libretto, girano il libretto, non è un costruttore perché non costruisce l'oggetto dato, ma ne costruisce un altro. Allora, possiamo, per aggiungere un copy constructor, dobbiamo fare attenzione perché attualmente questa classe non ha nessun costruttore e quindi Java ne genera automaticamente uno. Costruttore che non fa nulla. Nel momento in cui aggiungiamo noi un costruttore, Java non aggiunge più quello automaticamente e quindi dovremmo aggiungerlo noi a mano. Lo vediamo subito. Public. Io definisco il copy constructor. Ok? Libretto. Quindi si chiama così. Tappare entri libretto lib. E qui dentro faccio il lavoro del copy constructor. Quindi questo. Copy constructor. Mi basta dire questo, ormai abbiamo capito di cosa si parla. Se io salvo questo, nel momento in cui salvo questo, diventa tutto rosso. Diventa tutto rosso perché ogni volta che scrivo new libretto, lui mi dice guarda che attenzione che il costruttore libretto non è definito. Ma come un attimo fa non ti arrabbiavi, ti andava bene, adesso ho aggiunto un pezzo e tu mi dici che una cosa non è più definita? è perché non è più definito il costruttore di default che Java aggiungeva automaticamente. E perché? Perché ho messo un costruttore io. Quindi giustamente Java ragiona così, dice se tu hai messo un costruttore sai cosa stai facendo e quindi io non tocco nulla. Sei tu che sai come si costruisce quell'oggetto. Ma se non mi dici nulla, ovviamente quell'oggetto deve essere costruibile in qualche modo e quindi ne definisco uno sotto banco automaticamente di nascosto. Quindi dovremmo semplicemente aggiungere un costruttore che non fa nulla, che non riceve parametri e non fa nulla. Se vogliamo proprio essere, ma non ci serve a niente, se questa classe fosse ereditata da altre classi è sempre bene in ogni costruttore come prima cosa delegare al costruttore della superclasse. In questo caso la superclasse di libretto è object che non fa nulla però. Prendiamolo come buona ambitudine quando faremo anche le classi estese. Quindi a questo punto riaggiungendo questo costruttore che non fa nulla perché come dicevamo la release viene creata direttamente dalla new, creata direttamente nell'inizializzazione della list, quindi non ha bisogno di far nulla questo costruttore, semplicemente lo definiamo e a questo punto il programma continua a funzionare come prima, esattamente come prima. E quindi il new libretto non dà più errore. Però questo è il costruttore default, crea un libretto nuovo, quindi chiamolo pure, crea un libretto nuovo e vuoto, mentre il coppio constratto crea un nuovo libretto che è una coppia di quello esistente. Come possiamo fare? Allora noi abbiamo un dis.voti che è un arraylist che abbiamo appena creato in questo oggetto nuovo e dobbiamo travararci dentro tutti i voti che erano dentro la arraylist del libretto lib. Non mettiamoci ovviamente a fare un ciclo for, ma semplicemente usiamo il metodo addAll che appende tutti gli elementi della scolarizzazione specificata alla fine della lista corrente e l'ordine è quello definito dall'iteratore specificato che è quello dell'arraylist e significa l'ordine di inserimento, quindi esattamente nell'ordine di prima. Quindi aggiungo semplicemente un addAll di lib.voti. Questo lo posso fare perché essendo una classe di tipo libretto ho accesso diretto alla proprietà voti, perché in realtà su questo oggetto il metodo getVoti non l'abbiamo definito, ma volutamente non l'abbiamo definito, perché non vogliamo che altri vadano a vedere o a maneggiare direttamente l'arraylist al nostro interno. Quindi dis.voti è una nuova arraylist diversa da quella di lib e perché sia una nuova arraylist lo vedo qui, nasce vuota e io la riempio copiando, inserendo, condividendo i riferimenti ai voti. Quindi attenzione che qui stiamo copiando il libretto ma condividendo gli oggetti voti, non sto duplicando gli oggetti voti, come invece facevo con questo metodo qua in cui andavo a clonare i singoli voti. Per questo motivo si dice che questo costruttore è un costruttore shallow, cioè non molto profondo, superficiale, copia, copia superficiale, cioè fa una copia dell'oggetto corrente ma non fa delle copie degli oggetti contenuti in esso. In particolare gli oggetti voto vengono condivisi rispetto alla copia precedente. In questo caso è appunto un costruttore di copia di tipo superficiale, tipo shallow. E fa attenzione, devo saperlo perché gli oggetti voto corrispondenti sono condivisi tra il nuovo libretto che ho clonato e il libretto precedente. L'alternativa che qui non è, questo non è implementato, sarebbe una copia di tipo deep oppure profondo. Una copia profonda fa sì che anche gli oggetti di voto e qui non potrei fare una doll di voti ma dovrei a questo punto fare un ciclo e fare il new, clonare o creare nuovi voti per ciascuno dei voti. E quindi chiamare, diciamo così, ai livelli successivi anche l'operazione di clone. Ovviamente questa copia profonda mi dà un oggetto che è completamente separato, a questo punto non condivide più nulla con quello precedente ma usa oggetti completamente distinti. Ovviamente costa più tempo, costa più memoria perché sto duplicando tutto. L'operazione shallow invece mantiene gli stessi oggetti ma li mette in una lista, in questo caso diversa. In questo caso ci può bastare questo. Facciamo sempre attenzione quando parliamo di copia, se stiamo parlando di copia superficiale o copia profonda. In questo caso è una copia superficiale. Allora, avendo questo, era il primo metodo, mi faccio una copia del libretto. Perché mi basta? Ma perché il punto dell'esercito che sto cercando di risolvere mi chiede semplicemente di stampare gli stessi voti in un ordine diverso. Allora, se devo stampare gli stessi voti in un ordine diverso non devo modificare gli oggetti voto e quindi mi va bene condividerli. Ricordiamoci che il discriminante era devo modificarlo oppure no. In questo caso non devo modificarlo e quindi mi va bene. Questo era il primo metodo che dovevo aggiungere. Poi per implementare l'ordine alfabetico a questo punto semplicemente metto due metodi nuovi sulla classe libretto che chiamerò public void ordina percorso, ordina il libretto corrente percorso. Quindi in qualche modo sto dicendo che riordina i voti presenti nel libretto corrente per alfabeticamente percorso. Quindi i voti saranno gli stessi, gli stessi oggetti voto ma rimescolati in modo che compaiono in ordine alfabetico. Ovviamente l'oggetto vuoti è un array list e ha, come tutti gli array list, un metodo sort già pronto, il metodo sort. Quindi io posso chiamare il metodo sort su questa array list. E qual è il criterio di ordinamento? Quindi questo mi basta. Questo è il metodo che serve. Delego al metodo sort del array list e dico alla mia array list, per favore mettiti in ordine. La mia array list però deve sapere in che ordine, no, porsi. Allora, posso, come fa l'array list a sapere come ordinare gli elementi? Vabbè, saranno i singoli voti che devono avere un ordine. Allora, il metodo di ordinamento deve ovviamente basarsi su un criterio di ordinamento. Il criterio di ordinamento può essere definito in due modi. In questo caso stiamo ordinando dei voti. Allora, ogni oggetto, come l'oggetto voto, può avere, per ogni oggetto, come l'oggetto voto, possiamo definire l'ordinamento naturale, il metodo di ordinamento naturale, predefinito, nativo, diciamo, lo chiamiamo ordinamento naturale, oppure dei metodi di ordinamento alternativi. Quindi tutte le strutture dati, le list, ad esempio, che sono composte di questi oggetti, poi potremo ordinarle sulla base dell'ordinamento naturale dell'oggetto e verrà più semplice, oppure sulla base di criteri di ordinamento diversi da quello naturale. Io posso ordinare la stessa sequenza di elementi con criteri diversi, in momenti diversi. Uno di questi criteri sarà il criterio che ritengo più naturale. Come faccio a definire? Quindi vediamo le due parti. Allora, diciamo, in questo esercizio noi useremo l'ordinamento naturale come ordinamento alfabetico e l'ordinamento aggiuntivo per ordinamento per voto. Ok? Come faccio a definire l'ordinamento naturale? Vedete che in questo caso il metodo sort mi dà errore proprio perché non è stato definito né un ordinamento naturale né un ordinamento aggiuntivo. Per definire un ordinamento naturale di un oggetto, e quindi qui torno sull'oggetto voto, perché è l'oggetto voto che deve sapere come fare a mettersi in ordine rispetto agli altri oggetti voto, devo dichiarare che questo voto sa come confrontarsi con altri voti. E quindi implementa l'interfaccia comparable di voto. Quindi sto dicendo, guarda che questo oggetto, voto, è capace da solo a confrontarsi con altri oggetti voto. Ovviamente qua sono obbligato a mettere la stessa classe dell'oggetto. Nel momento in cui dico che la classe voto implementa l'interfaccia comparable, la classe voto dà errore perché mi dice, eh bravo, sì, tu mi hai detto che la implementa, però il metodo che implementa non l'hai messo. E va bene, aggiungiamo allora il metodo che devo implementare, cioè il fatto di implement comparable, mi obbliga, o almeno mi impegno, a definire un metodo che si chiama compareTo, che confronta questo voto con un altro voto. Qui lo chiamo O, io preferisco chiamarlo other. E il metodo compareTo deve restituire un valore minore di 0, se, quindi deve restituire, mettiamolo qua come commento, minore di 0 se this è minore di other. Uguale 0 se this è uguale other. Maggiore di 0 se this è maggiore di other. Cioè io devo analizzare i valori, le proprietà dell'oggetto voto e decidere se io voglio che questo oggetto of this venga prima o dopo dall'oggetto other che mi è stato passato. Quindi mi danno due oggetti, this e other, li analizzo, decido quale deve venire prima e restituirò un valore negativo, nullo o positivo a seconda di quale dei due ritenga che debba venire prima. Poi il metodo sort userà questo compareTo ovviamente per poter decidere come fare a ordinare gli elementi. In questo caso, nel nostro caso, e quindi compareTo è l'unico metodo che devo implementare per poter rendere un oggetto comparable, che è capace di confrontarsi con il metodo di ordinamento naturale. In questo caso, l'ordinamento naturale è quello che abbiamo scelto che sia quello per nome del corso. Quindi in realtà dovrei andare a confrontare se, ad esempio, this.corso è minore di other.corso, allora ritorno un numero negativo, cioè ad esempio meno uno, altrimenti if, eccetera, eccetera. Potrei fare questa trafila, cioè andarmi a fare questi confronti. In realtà sulle stringhe l'operatore minore non è definito, quindi in realtà dovrei ancora sistemarlo. Ma in realtà io sto confrontando due oggetti tipo string. String sono comparable? Sì. E se string sono comparable, allora hanno un metodo compareTo. E allora perché non fare, chiedere direttamente a this.corso, che è una stringa, di confrontarsi con other? poiché il string è già un oggetto comparable, ha un metodo compareTo che serve per confrontare non other, ma other.corso, chiaramente, confrontare questa stringa corso, this è l'oggetto vuoto, this.corso è una stringa, quindi questa stringa confrontala con la stringa corso dell'altro oggetto other. e questo è il mio valore di ritorno. Quindi di nuovo sto implementando questo comparatore delegando il confronto tra oggetti vuoto al confronto tra oggetti stringa. Avete già capito che questo meccanismo di delega a me piace tanto perché mi permette di non scrivere tanto codice, il che vuol dire non fare errori, perché ogni riga di codice che scrivete è un rischio per la vostra salute e per gli errori. Ok, a questo punto tornando qua il metodo sort dovrebbe nel momento in cui si accorge che vuoto l'ho modificato dovrebbe ricompilarlo e dovrebbe funzionare se ricordo bene dunque vediamo un po' perché a volte do voti è una lista di voto sì quindi il voto dovrebbe essere ordinabile vediamo un po' perché mi dice che non posso farlo vabbè questo scurato lo risolvo dopo per non perdere tempo probabilmente è un problema di ricompilazione l'altro metodo che vi dicevo per ordinare quindi il primo punto che ci portiamo a casa è l'ordinamento naturale di un oggetto è basato sulla definizione di un metodo compareTo attraverso il quale l'oggetto può implementare l'interfaccia comparable e quindi questa interfaccia impone un ordine totale sull'oggetto che viene chiamato ordine naturale ordinamento naturale del metodo stesso avevamo poi ovviamente la seconda modalità il secondo metodo ok prima di passare sono ricordato qual è l'errore qua scusa il metodo che devo chiamare non è il metodo sort dell'oggetto list per far funzionare l'ordine naturale ma esiste in realtà un metodo che si chiama collection.sort qui c'è una è una modifica che è venuta da già voti in avanti per cui c'è una versione che non è troppo coerente però allora sort di this.voti sort dove siamo? qua di this.voti ok ho sbagliato la sintassi e qui ovviamente c'è una classe collections in java.util collections con la s non è collection che è l'interfaccia madre di tutti è una classe che contiene dei metodi di comodo che lavorano sulle collection poi il metodo sort esiste ma lo vedremo tra un secondo quando ho pensato già alla seconda possibilità mi è venuta in mente perché la prima era sbagliata quindi questo metodo collection.sort ordina la lista in ordine crescente usando l'ordine naturale degli elementi e mi dice ovviamente che gli elementi devono essere comparable e quindi devono aver implementato il metodo compareTo questo è il metodo normale se andiamo su adesso per fortuna non dà più errore perché ho ricordato la causa quindi vediamo che il punto 7 possiamo cominciare a implementarlo stampa in ordine alfabetico e quindi chiamiamo libretto alfabetico uguale lib new usiamo un copy constructor di lib e ordiniamo ordina percorso a questo punto dovremo poter stampare il libretto alfabetico e dovremo vederlo ordinato in modo alfabetico vediamo subito se funziona vedete che compare l'ultima cosa che abbiamo stampato il libretto in ordine alfabetico analisi 2 poi economia poi tecniche di programmazione abbiamo scelto di ordinare una copia del libretto e non il libretto originario quindi il libretto originario non è cambiato stiamo riusando gli stessi oggetti voto ma non è un problema perché non li stiamo modificando adesso io voglio anche stampare in ordine sempre nel punto 7 stampa in ordine di voto però a questo punto la classe voto non posso usare esattamente il stesso approccio perché la classe voto ha già un ordine naturale quindi io voglio a questo punto ordinare la stessa lista quindi nel metodo libretto ordinarla non per corso ma per voto per voto e dovrò definire un ordine chiamare il metodo di ordinamento però con un ordinamento diverso da quello naturale allora questo si può fare perché la classe collection.sort vediamo un attimo ha due modalità di funzionamento ha due modalità di funzionamento una prima modalità nella quale è necessario passare un solo parametro cioè l'oggetto da ordinare in questo caso usa l'ordine naturale degli elementi ma ha una seconda modalità di funzionamento in cui riceve due parametri il primo parametro è la lista da ordinare il secondo parametro è un oggetto di tipo comparator cioè l'oggetto voto è capace a confrontarsi da solo con se stesso con copie di se stesso usando l'ordinamento naturale ma se io voglio usare un ordinamento diverso posso usare una classe esterna che è una classe di tipo comparatore quindi attenzione comparable sono io che sono capace di confrontarmi comparator è una classe esterna che è in grado di confrontare oggetti di tipo voto e allora dirò all'oggetto al metodo sort e senti ordinami questa collection usando non l'ordinamento naturale bensì l'ordinamento specificato da questo comparatore quindi io posso usare questo metodo in cui dico ordina la lista dis.voti ma usa come comparatore una classe un comparatore che cos'è? non è altro che una classe che implementa l'interfaccia comparator di voto e poi dentro avrà un metodo anche lui compare to quest'altra classe la devo creare quindi vicino a voto dovrò creare per il momento dove siamo? per il momento lo creiamo così poi troveremo dei modi anche molto più rapidi di creare queste cose all'interno all'interno del modello avrò un compare un compare diciamo in italiano confronta voti per valutazione dalla votazione più alta alla più bassa crea una classe confronta voti per valutazione che non deve la posso mettere con visibilità package non deve essere essenzialmente pubblica questa classe perché è solamente interna al model è una classe di servizio al modello stesso poi impareremo come farla ancora più privata e faccio sì che questa classe implementi l'interfaccia comparator 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 di che tipo voglio confrontare ovviamente comparator è un tipo generico come tutti i tipi che hanno a che fare con le collection voto quindi sto creando una classe nuova confronta voti per valutazione che sia implementi un comparatore di voti e questa classe qui quando me la crea Eclipse visto che gli ho detto che devo implementare questa interfaccia già mi predispone questa interfaccia questo metodo compare che è quello che serve per implementare il metodo per implementare il confronto a questo punto io devo confrontare un oggetto voto o uno un altro oggetto voto o due ciò che vorrei fare è allora se io ordinassi i voti in ordine crescente dovrei fare o uno punto voto meno o due punto voto ma io voglio invece un ordinamento decrescente quindi dovrò dire fare o due meno uno perché io voglio che o due venga prima se il suo voto è più alto voglio che venga dopo se il suo voto è più basso e quindi la sottrazione dovrò fare al contrario ovviamente questa situazione non la posso fare perché l'attributo voto non posso farlo come primo perché ho dentro la classe voto e potevo leggere gli attributi qui sono fuori della classe voto sono dentro la classe confronta voti per votazione quindi dovrò usare ovviamente il get per l'accessor method get voto per prendere voto ma questo non è un problema quindi questa classe mi dice un metodo alternativo di confrontare due voti mentre quel metodo naturale è confronto alfabetico il metodo alternativo è ordine decrescente di voto e allora nella mia classe di bretto semplicemente userò questa una nuova istanza quella è una classe quindi per poter passare la funzione devo passare un oggetto confronta si chiama un nome lungo confronta voti per valutazione per valori decrescenti della valutazione quindi non posso passare semplicemente la classe questo dovrebbe un errore sintassi io per chiamare un metodo devo passare un oggetto quindi creo un nuovo oggetto che è un oggetto un po' strano perché è un oggetto che non ha nessun attributo non ha valore ha solamente un metodo e vabbè di fatto è un contenitore di funzioni di metodi e a questo punto la funzione sort non userà più il comparator il compare to della classe voto ogni volta che deve confrontare degli elementi per ordinarli ma userà questo nuovo comparatore e quindi anche qua basterà ripetere le stesse operazioni che abbiamo fatto prima quindi abbiamo ordinato per voto per voto voti decrescenti voti decrescenti quindi creiamo una copia del libretto i voti decrescenti li ordiniamo per voto e quindi proviamo a stamparli per voti decrescenti eseguiamo questo programma e ci farà vedere no qui c'è un errore che errore mi dici voti decrescenti qual è l'errore scusi ah scusa c'ho troppe parenti di tonde qua ok voti decrescenti allora mi stamperà a questo punto 30 28 24 che è l'ordine ovviamente decrescente dei voti mentre prima qui me l'aveva stampato in ordine alfabetico crescente e qui me lo stampa in ordine di voto decrescente quindi riassumendo ogni oggetto può avere un ordinamento naturale e l'ordinamento naturale è definito da il fatto che l'oggetto abbia implementi di interfaccia comparable e quindi abbia un metodo compare to compare to molto spesso delega agli oggetti sottostanti per definire o una combinazione di delega agli oggetti sottostanti per definire l'ordine posso anche gestire un ordinamento diverso dal da quello naturale basta definire una classe comparator una classe esterna che implementi comparator e quindi ogni volta che devo ordinare un elemento dovrò semplicemente non fare affidamento solo sull'ordine naturale ma specificare il comparatore ecco la cosa che mi aveva indotto prima in confusione è il fatto che da già voto in avanti direttamente l'arraylist ha un metodo sort però il metodo sort richiede funziona solamente col comparator non funziona con l'ordinamento naturale quindi avrei potuto fare anche così esattamente chiamare il metodo sort della classe voti la mia confusione è il fatto che ero convinto che sort dell'arraylist funzionasse anche senza parametro con l'ordinamento naturale e invece no questa è stata una asimmetria nella libreria che mi ha creato mi ha indotto in confusione quindi queste due forme sono esattamente equivalenti adesso ovviamente lasciamo una sola ma lasciamo l'altra come riferimento ok io a volte ho visto alcuni di voi che usano il metodo compare to per verificare se due elementi sono uguali oppure sono diversi allora attenzione compare to serve per vedere se un oggetto è maggiore minore o uguale e ha senso definirlo solamente su oggetti che sono dotati di un criterio di ordinamento come in questo caso ordinamento alfabetico o ordinamento per voto in generale non è detto che un oggetto abbia un criterio di ordinamento cioè immaginate che un oggetto rappresenta dei punti nello spazio x y z allora io posso sempre dire se i due punti sono uguali perché la x la y e la z sono uguali ma non posso a priori dire quale punto viene prima dell'altro non c'è un ordinamento naturale per i punti nello spazio quindi un errore concettuale è usare il metodo compare to per confrontare due oggetti e scoprire se sono uguali o no perché ci basta un concetto più semplice che è quello di uguaglianza per confrontare per sapere se due oggetti sono uguali e non abbiamo bisogno di usare un criterio più potente che non ho detto che sia definito su tutti gli oggetti che è quello del confronto per ordinamento totale allora se io voglio confrontare due elementi devo usare per vedere se sono uguali devo usare il metodo equals se invece voglio definire l'ordine degli elementi userò il metodo compare to non confondiamoli se mi basta confrontare se un oggetto è uguale all'altro uso a.equals b e non farò a.compare to b uguale o uguale 0 perché a parte il fatto che è più lungo da scrivere ma non è detto che quell'oggetto che tutti gli oggetti possano implementare compare to perché non è detto che su tutti gli oggetti si possa definire un ordinamento totale questo però mi fa anche dire che quale che sia il criterio di ordinamento totale e quale che sia il criterio di uguaglianza equals i due devono andare d'accordo cioè io sono tranquillo perché ho definito un ordinamento totale basato sul nome del corso ma anche un criterio di uguaglianza che è basato sul nome del corso quindi è responsabilità mia quando definisco sia il metodo equal sia il metodo compare to far sì che lavorino sugli stessi attributi che siano coerenti tra di loro che il criterio di uguaglianza che l'oggetto conosce di se stesso e il criterio di ordinamento che l'oggetto conosce di se stesso siano coerenti questo non me lo fa nessuno in automatico devo garantirlo io quindi il compare to non è obbligatorio inserirlo ma se lo inserisco devo farlo coerente col metodo equals se non riesco a farlo coerente col metodo equals è meglio non farlo il compare to e avere un comparatore esterno così almeno è esplicito è chiaro che è una cosa diversa e non è detto che coincida con l'uguaglianza degli oggetti di equals e del suo gemello hash code parleremo tra breve perché questi metodi di autogestione degli oggetti devono avere una coerenza interna altrimenti poi le librerie che danno per scontati che questi metodi siano fatti bene se noi li implementiamo male invece la libreria poi risponderà un risultato errato va bene siamo alla fine nel senso che abbiamo solamente più un punto che sembra più facile degli altri cancellare dal libretto tutti i voti inferiore a 24 allora qui ormai il discorso cancelliamo dal libretto di partenza oppure ne facciamo una copia ormai l'abbiamo superato perché abbiamo il metodo di clone e quindi noi facciamo un metodo che cancelli dal libretto corrente e poi se uno vuole se ne fa una copia e cancella solamente dalla copia e quindi aggiungiamo un metodo in fondo che sarà l'ultimo di questo lungo esercizio un metodo public void cancella vuoti scarsi ok? quindi questo metodo elimina dal libretto elimina dal libretto tutti i voti minore a 24 quindi questa è una banalità da implementare no? perdono scusate che mi scusca è una banalità da implementare perché basterà iterare sui voti del libretto for voto di due punti dis.voti se v.getvoto è minore di 24 allora dis.voti dalla lista dei voti cancellerò e abbiamo visto che c'è un metodo remove l'oggetto v banale sto usando sto iterando la lista e per ogni elemento della lista mi chiedo guarda tu caro elemento v hai un voto minore di 24? sì allora ti cancello e poi passo l'elemento successivo e vado avanti così quindi posso tornare in test libretto per testare questo metodo quindi 8 nel nostro libretto non abbiamo voti minore di 24 quindi elimina voti bassi quindi magari potremmo dire che noi abbiamo un voto economia 3 aspettate un altro libretto conflitto no non abbiamo un libretto che contenga dei voti bassi quindi aggiungiamolo dai aggiungiamo lib.add new voto questa volta gli diamo un bel 19 del corso di chimica gli diamo 19 e poi l'ultimo campo la data localdate.now oggi e quindi abbiamo un libretto lib che conterrà anche un 19 questo libretto magari lo possiamo ordinare facciamo così ordiniamo in ordine alfabetico lib.ordina pertanto è l'ultimo punto quindi non abbiamo più paura di sporcare il libretto ordina percorso quindi vediamo un attimo se stampa la cosa giusta no perché ho un errore dove system punto out punto printline ok quindi mi sta stampando un nuovo libretto che ha 28 19 24 30 in questo ordine alfabetico ok adesso dirò di cancellare i voti bassi quindi sto cancellando cancella voti scassi dovrà cancellare il 19 e quindi dopo mi aspetto che mi ristampi il libretto senza più questo 19 quindi faccio run e non funziona qual è il problema mi da un'eccezione che a prima vista è strana mi dice facciamo spazio per questo così lo leggiamo con current l'eccezione con current modification exception all'interno di bla 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 libretto punto java 200 per questo sono diciamo l'eccezione è stata scatenata all'interno di librerie di metodi delle classi array list che io non posso vedere non è colpa mia ma l'ultimo metodo quello che mi interessa è il metodo mio cancellare voti scassi alla riga 200 con current modification exception cosa vuol dire a questa riga qua lui mi sta si sta arrabbiando perché io sto modificando una lista sulla quale sto iterando quindi voi pensate a questo povero iteratore v che passa da un elemento al secondo al terzo al quarto al quinto della lista e mentre lui sta andando avanti tranquillo noi gli togliamo da sotto il naso alcuni elementi della stessa lista su cui lui sta iterando allora questo non è permesso non è possibile ok non posso modificare una lista se ho in corso un'iterazione sulla lista a testa anche perché poi non si capirebbe più nulla perché io magari tolgo il terzo elemento stavo iterando sul quarto ma allora il quarto diventa il quinto e allora il quarto l'ho saltato oppure ero già sull'ultimo e allora cosa dovrei fare tornare indietro di uno sarei fuori dalla lista non è definito il comportamento e quindi mi dà un errore mi dà un'eccezione se io tento di modificare una lista questo caso con remove ma anche con add mentre sto iterando sulla stessa lista non posso mi dà errore allora come faccio a togliere degli elementi da una lista se non li posso togliere mentre li sto guardando e questo è un problemino comune semplicemente man mano che li incontro li metto da parte e poi li cancellerò dopo quindi faccio un primo ciclo in cui trovo gli elementi da cancellare e poi farò una seconda passata in cui li cancello effettivamente quindi mi servirà una lista da rimuovere che è una lista di oggetti vuoto new array list di vuoto che parte vuota e poi ogni volta che trovo un vuoto da cancellare non lo posso cancellare subito ma semplicemente mi ricordo che questo è da rimuovere da rimuovere vi dopodiché ovrò alla fine di questa iterazione quando l'iterazione sulla lista voti è conclusa io avrò nella lista da rimuovere zero o più elementi magari non c'è nessuno magari ce ne sono alcuni allora in questa seconda volta iterò sulla lista da rimuovere quindi sempre voto vi però questa volta iterò su da rimuovere e per ogni elemento da rimuovere lo rimuovo dalla lista voti remove di vi ma non è cambiato niente però stai rimuovendo dentro un ciclo eh sì però sto rimuovendo dalla lista voti dentro un ciclo che itera su da rimuovere quindi sto iterando su una lista diversa rispetto alla lista da cui lo tolgo e quindi il problema non si pone guarda da rimuovere punto ad avevo dimenticato un ad tre righe sopra quindi faccio due giri due passate nella prima mi metto da parte gli elementi da rimuovere nella seconda li prendo uno per uno questi elementi e li tolgo dalla lista vediamo se questo funziona poi vi faccio vedere come si fa invece più rapidamente quindi in questo caso ecco vedete le ultime due stampe che abbiamo fatto avevamo la versione analisi 2 chimica 19 economia 24 l'abbiamo ristampato senza chimica 19 e senza più quell'eccezione che non permetteva al programma di completarsi quindi ricordiamocelo ogni volta che devo modificare il contenuto di una lista mentre la sto iterando non lo posso fare devo segnarmi da parte salvarmi da qualche parte le operazioni che devo fare da cancellare da aggiungere e poi dopo che ho finito l'iterazione lo posso fare in realtà questa parte qui è un po' ridondante perché noi abbiamo visto noi stiamo facendo possiamo esprimere questa seconda parte di cancellazione come un'operazione insiemistica io ho l'insieme dei voti a cui devo togliere l'insieme dei voti da rimuovere allora questo lo posso fare con un metodo di alto livello quando abbiamo visto le liste abbiamo visto le operazioni insiemistiche dis.voti.remuval cancella da questa lista tutti gli elementi che sono contenuti nell'altra collection che ti specifico da rimuovere quindi con un unico metodo che poi ovviamente internamente ci impressionerà lui a fare questo ciclo riesco a fare la stessa operazione e quindi non mi non mi sbaglio più quindi fatto questo riproviamolo abbiamo semplificato ma non dovrebbe cambiare la soluzione il risultato ok quindi quando vedete quell'eccezione strana con current modification exception sapete che non è una cosa strana che ha a vedere con la concorrenza con i thread multiple con i programmi che vanno avanti in parallelo ma semplicemente è l'iterazione su una lista che blocca la possibilità di modificare la lista stessa e di nuovo come ci siamo già detti più volte tutte le volte che è possibile usare un metodo di più alto livello ad esempio un metodo insiemistico che lavora sulle collection o un metodo che delega un altro metodo eccetera facciamolo sempre e cerchiamo di resistere dalla tentazione di farci noi a mano le iterazioni sulle singole liste questa era quasi inevitabile ma non del tutto perché se uno va a vedere la parte streaming della collection che è un'estensione su cui non spenderemo tempo non approfondiremo c'è anche il modo di fare questo senza dover fare una iterazione esplicita ok con questo direi che si conclude il nostro lungo percorso di tre lezioni su questo esercizio libretto che come vi dicevo è un esercizio un po' accademico perché si tratta di lavorare con delle liste aggiungere togliere ricercare elementi ma ci ha servito come pretesto per riuscire a toccare con mano in un problema semplice alcune problematiche di gestione delle strutture dati che poi ci ritroveremo sempre e quindi cerchiamo di prendere come si dice fin da piccoli le buone abitudini in modo da poterle poi portare avanti quando i problemi si fanno più seri si fanno più complessi io vi lancio solo poi un'ultima idea perché qui avevamo detto quando eravamo ancora meno stanchi da tutto questo lungo percorso su questo esercizio ma questa classe qui facciamo un model ma poi un domani vogliamo che questo modello possa essere richiamato anche nel contesto di un'interfaccia grafica allora ciò che vi lascio così come pensierino notturno o serale proviamo poi a immaginare in JavaFX la costruzione dell'interfaccia grafica per il libretto lasciamo perdere l'implementazione del controller e tutto quanto questo può venire ma come organizzereste come organizzereste graficamente gli elementi che bottoni metto che menu che campi di testo per inserire per cancellare per ricercare per migliorare per duplicare eccetera eccetera e se ci pensiamo un attimo anche solo carta e penna proviamo a immaginarci come presentare all'utente tutte queste funzionalità ci accorgiamo che non è per nulla banale non è per nulla banale generare un'interfaccia che sia facilmente comprensibile questo è un esercizio un po' strano perché parte da un modello già fatto e si dice inventa l'interfaccia di solito si conviene sempre partire dal contrario quali sono le funzioni che l'utente vuole vedere pensiamo come è fatta l'interfaccia e poi implementiamo gli algoritmi però potrebbe essere un buon esercizio per aiutarci a progettare a pensare le interfacce grafiche che è di per sé uno skill diciamo così di usabilità di creazione di programmi che abbiano una componente di usabilità che sono facile da usare che non è per nulla scontata sembra che possa avvenire intuitivamente sì sì ma adesso dove mettere i bottoni ma quali e dove e con quali siano le scritte non è per nulla scontata non è per nulla facile quindi magari potremmo vedere in una lezione extra perché non non vorrei sovraccaricare ancora il corso di questa parte qualche piccolo ragionamento sulla costruzione di un'interfaccia per questo tipo di esercizio però appunto se vi rimane del tempo potete cominciare a pensare il progetto è già pronto nel senso che è già un progetto JavaFX ha già il suo controller quindi basterà costruirci l'FXML che visualizzi il libretto e permetta di accedere a queste nuove funzionalità con una sorta di interfaccia diretta che non sia il programma di test che abbiamo fatto noi che va bene verifica che i metodi funzionino ma non è sicuramente usabile da un utente che voglia gestire i propri voti ok con questa esortazione io concludo anche questa lezione e così chiudiamo completamente questa parte dell'esercizio e la parte di ripasso approfondimento sulle collection così possiamo andare avanti dalla prossima volta sugli argomenti nuovi del corso grazie e buona serata grazie a tutti